let's go bitches ecco qui un vlog come sapete non posso fare tanti video in questo periodo questo è il motivo e lo avete già visto negli scorsi due video che ho fatto questo vlog voglio un pochino prepararvi ad alcune cose per prima cosa grazie per quelli che sono i 14.000 iscritti ora siamo 14.660 vediamo se riesco a vedere si 14.660 più o meno e quindi voglio ringraziare per tutto questo supporto e seconda cosa siamo in road to 15k quindi to 15.000 quindi voglio parlarvi di cosa voglio fare arrivati ai 15.000 iscritti allora sicuramente farò un altro question and answer come ho fatto per i 10.000 e come ho già detto in un video segretamente farò un contest o farò un contest o un giveaway non so ancora bene come vorrei fare un contest vorrei cercare di fare una sfida e in palio c'è qualcosa di molto grande alla fine quindi vorrei cercare di trovare qualcosa di molto divertente che voi tutti possiate partecipare quindi non solo chi gioca su xbox anche se però il pre... vabbè lasciamo perdere comunque non vi parlerò di questo quindi vi ho anticipato un pochino quello che farò nel video dei 15.000 iscritti quindi speriamo di raggiungerli presto così prima li raggiungiamo prima lo facciamo ragazzo ma ho portato un conto si si porca puttana say let's go bitches si dai e oltre a questo come sapete mi sono fatto male già l'ho fatto vedere e quindi sono al momento impossibilitato a fare alcuni tipi di video quindi sto pensando come ho già detto di utilizzare video vecchi in questo caso che ancora non avete visto perchè ne ho molti alla fine e di mettere video di nuovi giochi per esempio oggi ho fatto un video su dayzine non so se conoscete il gioco mi invito a vederlo veramente divertente non vedo l'ora di pubblicarlo devo durare solo il tempo per montarlo perchè voglio fare un video veramente bello e tra l'altro questo qui è un gioco che mi fa passare il tempo non potendo giocare a code, battlefield, proprio con il joystick per via del pollice mi diretto a giocare un pochino sul pc a quelli che sono i giochi che ho e ho molti giochi tra l'altro che secondo me sono molto divertenti da guardare specialmente per le mie reazioni quando gioco perchè sono quasi tutti i giochi online comunque quindi spero vi divertiate ah un'altra cosa spero abbiate apprezzato la sincerità del fatto che vi ho detto che utilizzerò gameplay vecchi perchè alla fine avreste potuto vedere nel video che magari ho dei livelli bassi o sono video diciamo che magari uso armi o classi molto vecchie rispetto a quelle che uso ora cioè proprio quelle di inizio gioco magari vabbè non solo inizio gioco questo qui è un esempio quindi per questo spero abbiate apprezzato questo perchè avrei potuto stare zitto non dire niente e dire che ho fatto video anche così col pollice così o cazzate del genere quindi spero vi sia piaciuta questa cosa e poi tra l'altro non voglio lasciarvi senza il solito video giornaliero perchè il mio canale è come un telefilm a puntate giornaliere ogni giorno c'è una puntata ora sto venendo di riuscire pure ad organizzarmi insieme a tutti diciamo gli altri video che sto facendo in modo da fare ogni tot giorni magari due video al giorno uno sempre riguardante cod e uno riguardante un altro gioco ovviamente cosa devo fare per fare questa prima cosa devo trovare il tempo perchè devo registrare due tipi di video devo uploadarli che è quello il problema principale per colpa della mia connessione per chi non sapesse che connessione ho o non se lo ricorda io ho una ora a 7 mega Alice che fa veramente schifo Alice scusate Telecom Italia non Alice Alice e Telecom Italia mi sembra che siano due cose diverse quindi pure quello è un grande problema perchè solitamente io lascio upare il video la notte alcune volte o proprio il giorno non gioco e lo lascio ad uploadare due video mi richiede molto più tempo sia per prepararli sia per uploadarli sia per montarli perchè se inizio a fare due video sicuramente non sono video come code che sono gameplay o normalissime scritte con spiegazione sono video montati con grafiche anche altre cose extra più per incentivare anche sia perchè mi voglio divertire a cercare di montare video molto più particolari tramite Sony Vegas sia perchè voglio cercare di diciamo innovare il canale oltre alla parte competitiva e di code metterci anche un'altra parte su quei giochi che magari pochi di voi conoscono ma sono giochi molto famosi apprezzati molto dalla community degli hardcore gamers perchè parlo di hardcore perchè non sono un giocatore caso non gioco al gioco perchè mi piace o per sentito dire gioco a quelli che sono i giochi perchè hanno una storia di sottofondo molto interessante propongono una sfida sono molto famosi hanno delle particolarità che gli altri non hanno hanno delle innovazioni e così via quindi spero anche di portarvi e di farvi conoscere un nuovo mondo come ho già detto quindi farò video di Dark Soul che ve li farò vedere mi ritengo pure abbastanza bravo alla fine perchè mi c'ero chiuso abbastanza ho fatto più o meno sulle 700 ore di gioco in totale su Xbox prima che mi si cancellassero i dati brutta cosa comunque ritornando a noi ricapitoliamo quello di questo video Power ti sei fatto male farai un contest barra giveaway ai 15.000 iscritti Power stai ringraziando tutti per essere arrivato vicino ai 15.000 iscritti Power farai video ora un pochino più vecchi o diversi proprio perchè sei impossibilitato perchè sei down e ti tagli con un bisturi e niente questo è tutto spero vi sia piaciuto questo vlog non vedo l'ora di fare il question and answer anzi vi lascio prima una piccola cosa per il question and answer quando faremo il question and answer io farò un video quando siamo più o meno sui 14.800-14.900 in cui vi chiederò di scrivermi ovviamente delle domande come ho fatto nel video scorso però in questo caso cambierò non farò più che voi potete farmi tutte le domande che vi pare io poi vengo a scegliere quelle che mi piacciono di più quelle più divertenti quelle che secondo me sono più importanti e così via no sarete voi a votare le domande e io prenderò solo quelle più votate quindi ricordate se magari c'è una domanda magari simile alla vostra o che è come la vostra votate quella o una domanda che vi interessa andatela a votare perchè in questo caso non prenderò tutte le domande o una gran parte prenderò quelle che hanno una votazione più grande quindi potrebbero capitarmi pure cose stupidissime e dovrò farle mi sa pure perchè magari mi dite fai questo capito cosa del genere è un po' pericolosa questa cosa perchè vi immagino voi che siano molto malati quindi mi mette un po' paura però voglio provare mi voglio divertire ai 15.000 iscritti almeno divertiamoci comunque il video sta finendo questo vlog la grafica è sempre fatta da Labs Design per chi se lo chiedesse lo trovate nei canali quelli diciamo in primo piano sulla mia home se non sbaglio vabbè comunque quindi vi saluto ragazzi buona domenica let's go bitches ci becchiamo al prossimo video applausi grazie a tutti grazie a tutti